Ecco la mosca qua, in questo angolino qua, vai, e adesso gli mettiamo sopra il mascarpone. Allora, finisco di colorare e... finito! Ciao amore! Ciao! Come stai? Bene! Tutto bene? Sì! Come è andata l'asilo? Bene, guarda! Che bello! Wow, ma questo disegno è ricco di particolari, chi te l'ha fatto? Una tua amica? Ma l'ho fatto io all'asilo, adesso ho colorato un po' di passione. Sì, però ascoltami un attimo Ani, mi è venuta voglia di fare un dolce, un dolcino, un dolce preferito di Vanessa. Ok, però intanto prima dei dolci ho fatto una cosa, che oggi andiamo dai cinesi. Sì, è vero, anche stasera andiamo a mangiare dai cinesi, perché a noi piace tantissimo, vero? Sì! E tu cosa mangerai stasera? Parini, shoumaon, le cose che va adesso a condimento, la carne. I ravioli alla carne e le patatine. Sì. O forse. Al blu è... Quelle gialle con ketchup. Ok, sei contenta di andare a mangiare al cinese? Sì, posso nominare il dolce? Forse ho già capito qual è il dolce, ho detto anche alle mie amiche. Quale è? Due. Uno, la carbonara! La carbonara! È un dolce! Ma che è questo? Però la carbonara è il piatto preferito di Vanessa, hai ragione. Ho detto che il dolce che facciamo oggi è... Il tiramisù! Bravo a fare! Però tu non sai una cosa. Tra pochi giorni cosa succede all'asilo dopo domani? Anche questo, lo sono detto nelle mie amiche, che domani è la festa dei piccattini. Domani verrà il biscottino a scuola, ma dopo domani cosa facciamo? Andiamo a metterci il vestito del carnevale e andiamo a scuola. Esatto. E sotto andiamo a avere i vestiti perché quando andiamo a mangiare ci andiamo a togli. Ahà. E oggi la mia amica ha portato il vestito del carnevale perché pensava che oggi non andiamo a ballare. Veramente, ha sbagliato il giorno. Quella di scheletro. Ah, è di scheletro. Senti, e tu da che cosa ti vestirai? Da Anna. Anna, e chi è Anna? L'amica di Frozen. La sorella di Frozen, di Elsa. Sì, è una mia compagna, quella lì che aveva portato il contone, si è chiamata Zim e me l'ha fatto anche vedere. Ma non ho tutto un pezzettino perché è dentro del zaino. Ok, allora. Senti un po' Ani. Vanessa, adesso è a scuola, ok? E io le voglio fare uno scherzo. Voglio metterle una mosca. No, guarda, ho già appuntato il sacchetto. Fai vedere quante schifezze ci sono in questo sacchetto. Cosa li mettiamo? Mio, mettiamole la mosca. Non voglio esagerare perché fanno veramente schifo. No, mettiamoli qua, perché la mosca è piccolina. No, 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 no. Che schifo che mi fa. No, no, mettigli la mosca. Dai, quello è troppo schifoso. Pensa se se lo mette in bocca un scarabeo. Dov'è la mosca? Qui dentro. Ma non li voglio mettere qua? No, mettiamole la mosca. Ok, gli metto l'occhio. No, così si strozza, se ne va giù quell'occhio lì. Dai, la mosca. I vermi sono troppo piccoli. La mosca è perfetta. Guardate un po' che schifo. Mi fa schifo solo a prenderla. E prendo. Quindi l'ho presa. Quindi? Adesso prepariamo il tiramisù alla mosca. Mamma, posso prendere tutto la corrente? Certo che devi prendere tutto la corrente. Mi puoi prendere? Ti aiuto. Allora, prima bisogna prendere la vasca da vai. La ciotola. La ciotola. La vasca da vai. La vado a sopra prendere. State più chiaro. Intanto parlate. Va bene. Parlate da soli, eh. Mi raccomando. Eccomi qui. Lato la ciotola perché è un po' grande. Il contenitore, dai. Adesso le uova. Ok, però prima delle uova voglio andare a prendere la cosa che non sapete. Le fruste. Le fruste. Dove sei? Bravissima amore. Eccola. Ok. Adesso manca il mascarpone, le uova e lo zucchero. Adesso andiamo le cinesi, sono così, con le panini, lo zucchero. Prima vado a prendere. Ah, lo zucchero. Anche il peso, quello lì. Lo zucchero di canna. Benissimo. Adesso mancano le uova, il mascarpone e il caffè. Ok, lo vado a prendere, lo vado a prendere, lo vado a prendere le uova. Mi puoi ripandare. Non farle cadere, se no facciamo la frittata. E non facciamo più il tiramisù. Ma il tiramisù. Che schifo. Mi raccomando, quando si rende racconto che ci sarà una mosca, le dobbiamo dire che noi, mentre facevamo il tiramisù, avevamo notato questa mosca che volava e ci dava fastidio e che l'avevamo ammazzata. E probabilmente quando l'abbiamo uccisa è finita nel tiramisù, senza che noi ce ne siamo accorte. I poi gli dicevano che cazzo. Dopo però, dopo, 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 dopo. Non è tantissimo. Insomma. Ok, andiamo a fare il caffè? Sì. Pucciola. C'è mamma. Che c'è? Sono andata a cuore. Mettiamo. E devo andare a cuore. Perché la ciotola ha il caffè? Per fare colazione. Dai, metti la ciotola qua sotto e schiaccia questo pulsantino. Aspetta, sono una butta sola? Sì. Schiacciatelo. Schiaccialo di più. Tienilo premuto. Lascialo adesso. E quando te lo dico io lo rischiaccio, ok? Ok. Eh? Ah, guardate. Sì, già. La ciotola è caffè? Sì, c'è amore. Ok, puoi schiacciare se vuoi. Cosa? Questo. Tieni premuto? Non. Ok. Adesso prendiamola. Ciotola. No! Aiuto! Ok. Allora. Non toccare più perché altrimenti non si ferma più. Andiamo. Torniamo ai nostri posti di partenza. Questo te lo rifavo. Ok. Questo te lo rifavo in te. C'ho messo in te. C'è caffè dappertutto. More, sei pronta a preparare la crema? Ok, devo andare a prendere i biscotti. Allora, amore, ti aiuto a fare la crema. Aspetta solo un secondo. Prima di aprire questo. Dobbiamo dividere le ruova. Allora, non fare niente se non andare a prendere i biscotti. No, perché la crema è molto migliore fino a lì. Magari, sei già pronto. Allora. Andiamo a mangiare i vecchi mesi così. Ascolta. Ascolta, vediamo che è più pronto. Ascoltami, mi ascolti? Io, 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 io. Qua mettiamo... Ha bruzzato le ruova. Ha bruzzato, sì, in effetti. Anche io lo voglio fare... E qua mettiamo il rosso. Il rosso. Ma l'ho mai messo il rosso. Ma non è rosso, arancione. Aspetta. È arancione. Arangio, arangione e arangione. Dividiamo il rosso dal bianco. Dividiamo il rosso dal bianco, 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 bianco. Wow! Ah, ok. È bello, lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo. Ah, mettila dentro. Anni! Ok, onore, mettiti un zucchero nel cuorlo. Tutto? Sì. Ok? Ti piace? No. No? No! Sì! No, no. Lei in ogni video si deve mangiare il contenuto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Boh, bisogna mescolare dal basso verso l'alto, così fino a quando non si raggiunge la consistenza giusta. Dai, vai. Vai tu? Sì. Dal basso verso l'alto, non così, eh, se no si rovina la crema. Cucciola, ci siamo. Dobbiamo fare in fretta, Anastasia. Tra poco esce Vanessa da scuola. Ci dobbiamo muovere. Allora, metti un po' di crema qua dentro, dai. Ma che tutta, un po'. Non la posso mettere. Così, dai. Di più. Non aver paura. Vai, vai. Devi metterla, devi riempirla. Che sono questi versi? Vai, amore, vai. Iniziamo con i biscottini. Veloce, veloce. Tiralo subito fuori. No, 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 subito. Se no diventa molle, molle. Vai, veloce. No, no. 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 Mettiamo un po' di mascarpone adesso, amore, dai. Oh, Ani, guardami. Ricordiamoci la mosca, eh. Ah, sì, dove? Non è che ci dimentichiamo di mettere la mosca? La mosca è volata via. È volata via. Potrebbe essere. Dov'è? Metti la mosca qua. In questo angolino qua. Vai. E adesso gli mettiamo sopra il mascarpone. Pensa quando tiriamo un po'. Che schifo. Lo mettiamo in ticorifero, dopo lo togliamo, è diventato ghiaccio. Dobbiamo ricordarci dov'è la mosca. Adesso dobbiamo fare un segnetto in qualche modo, eh. Cosa li mettiamo per ricordarci? No, 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 io mi ricordo. Lo stuzzicadente. Tanto poi, prima che Vanessa vede il tiramisù, lo togliamo, eh. Va bene? Dov'è? Adesso te lo do. È qua. Adesso noi sappiamo che è qua. Tu non spostare il contenitore. Alla fine, quando è finito il tiramisù, mettiamo lo stuzzicadente e lo mettiamo in frigo. Va bene? Sì, sì, sì. Amore, ultimo strato, dai! Devi metterlo nel caffè prima. È quasi finito il caffè. Come sei, signorina? Mi fai sempre gli scherzi. Allora, amore, questo è da mettere tutto adesso. Adesso facciamo così. Tu prendi la paletta. Ok, io mi sposto gradualmente e tu... Lo messo. Cacao. Cacao. E la riveone. Ne, 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 ne. Ok, ciao, Luci. Ciao, amici. Oggi non lo pare. Ti amici su, è già pronto. Non so, metto il sale. Sì, allora, non so per quale strano motivo, la crema era poca. Solitamente usiamo gli stessi ingredienti, le stesse quantità, ma oggi è andata così. Non metto il salino. Fa niente. Andrà bene lo stesso. Senti, è vero che tu non hai invertito questo contenitore, non lo hai girato, giusto? Sì. Perché altrimenti la mosca va in bocca a qualcun altro. Magari a te. Sì, amore. Ti ricordi come si fa? Come la rivela? Sì, lo so. Vai di cacao. Non ci vedo. Amore, dai. Mettiamo questi due tritti qua, nell'angolino dove ho messo la mosca. Dritto? Non puoi fare te, ma lo vedete così. Non è difficile. Così. I due? A fianco, dai, così. Sì. Ok. Non ci mangia. Ciglietta. Dopo ho buttato il tavolo, ha detto, la mamma ci si arrabbia. Ma mamma è sempre arrabbiata perché sforcate dalla macchina, non per terra. Dalla macchina, sì. Allora, Anastasia, abbiamo messo i due stuzzicadenti esattamente nel punto in cui c'è la mosca. Adesso lo mettiamo in frigorifero. Sì. Andiamo a prendere Vanessa e le facciamo fare questa super merenda. Una super merenda. Ok? Sì. Ci siamo? Dai, andiamo a prendere la Vane. A dopo! Ma che male! Ok, Vane, ciao. Bentornata da scuola. Tutto bene a scuola? Sì. Avete fatto la verifica di grammatica? Sì. Com'è andata? Bene. Ce l'hai in cartella? Sì. Poi la guardiamo. Hai fame, amore? Vuoi far merenda? Ok. Ma lo sai che ti ho fatto il tuo dolce preferito? Il tiramisù. Sì, brava! Dai, puoi togliere anche la mascherina, eh? Vero che ne abbiamo fatto il tiramisù, Ani? Adesso lo vuoi subito un mega pezzone? Dai, togli il giubbottino e andiamo a far merenda. Ok. Piattino. E voilà! E per Vanessina è pronta la merenda. Dai, mamma, ci fanno, dai. Tieni, amore, tieni. Fai merenda. Guarda che buono. L'ho fatto io oggi con le mie manine. Mmh. Non è buono. Scuola, tutto bene? Sì. Eh? Tutto bene. Ho fatto le verifiche? Cosa c'è? Che schifo! Oddio, che schifo! Come è potuto essere? Come è potuto capitare? Che schifo! Una mosca nel tiramisù! Effettivamente, pensandoci bene, mentre io e Anastasia facevamo il tiramisù, adesso che ci penso? C'era una mosca che svolazzava qua e là e ho tentato di ucciderla, ma poi non l'ho più vista. No, è finita nel tiramisù! Scusa! Che schifo, mamma! Hai ragione. Scommetto che il tiramisù non sarà più il tuo dolce preferito. Ma è possibile che una mosca finisce nel tiramisù, scusa? Eh, sì. Mica è un scherzo perché io vedo che qui questa mosca è finta. Ah, è finta? Oh, ok. Ma sì, amore! È carnevale tra pochi giorni e io e Anastasia volevamo farti uno scherzo. Ti è piaciuto? No. Dai, su, che è carnevale ogni scherzo? Non vale. No, vale. Com'era? Saporita? Però se ci penso che schifo, mi viene uno schifo totale anche a me. Perché tu senti intanto? Perché io da quando ho messo in bocca, un pochino capivo perché stavo masticando la mosca e non proprio no. Mi viene da vomitare solo il pensiero. Vabbè, dai, facciamo i saluti. Abbiamo un sacco di persone nuove che vogliono essere salutate. Adesso andiamo a prendere il nostro quaderno. E oggi salutiamo... Nona Maria Grazia Isabella Lombardi Alessia Sofia Di Napoli Desiree Frita Di Bartolo Benino Aurora Sabrina Aspin Martina Vincenzo Anna Cacciatore Giorgia Remaghi Channel Tiziana Cortese E Katrin Ciao! Ragazzi, però, nei commenti scrivete. Quindi salutate per favore, please, quello che volete. Però dovete scrivere anche il vostro nome. Perché se voi avete un account dei miei genitori, non sappiamo come vi chiamate. Quindi scrivete sotto nei commenti il vostro nome. Ok, brava amore. Quindi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un video anche a questo video. Mua! Ciao!